Demeo con Dieresi Demir, una delle giovani attrici popolari dell'ultimo periodo, ha debuttato alla grande con la serie Harley Beard. Dopo questa serie di commedie romantiche in cui ha interpretato il ruolo principale con Kanye Man, ha avuto una vasta base di fan. Ha guadagnato una reputazione internazionale mostrando la serie in diversi paesi del mondo. Il giovane attore è finalmente arrivato sullo schermo con la serie drammatica intitolata The House of War e Born is our Destiny. Dopo la serie che ha raggiunto la finale alla fine della scorsa stagione, questa stagione non era sullo schermo. Tuttavia, con il suo film intitolato Low Tactics, girato in estate e recentemente pubblicato su Netflix, è diventato improvvisamente di nuovo un argomento caldo. Sebbene non sia sullo schermo, ha incontrato i suoi fan in molti paesi del mondo tramite Netflix e il film è salito in cima alle classifiche degli attori e del mondo sulla piattaforma. Il nuovo progetto di Demeo con Dieresi Demir era atteso con impazienza dopo il film con su con Dieresi K.R.U. con Dieresi o con Dieresi Zilz. Tempo fa, era all'ordine del giorno l'accordo di O con Dieresi Demir con la piattaforma digitale Disney Plus, appena entrata in Turchia. È stato anche appreso che l'attore reciterà nella serie TV Bet 20 World in Me. Si è scoperto che Demeo con Dieresi Demir si stava preparando alla cremente per la serie da un po'. L'attrice si tiene in forma per il suo nuovo dramma Perdendo peso con una dieta rigorosa e un programma sportivo. La buona notizia che è uscita durante la settimana ha entusiasmato i fan. È quasi ora di girare per la serie TV Bet 20 World in Me. Le riprese, che avrebbero dovuto iniziare questa settimana, sono state posticipate alla prossima. Sia la troupe che i fan attendono con impazienza l'inizio del set e le prime notizie in arrivo. Si dice che la serie andrà in onda in estate.